Mi colpisce tantissimo la prima vittoria nei 100 femminili piani. Vince Elie Basabet Robinson, 16 anni, tecnicamente parlando da Chicago. In finale batte la sua rivale che si chiama Cook, che ha due false partenze. All'epoca le false partenze non generavano la squalifica ma la retrocessione. Ah, ti portavano un metro dietro, per esempio. Un metro dietro. Nei mezzofondo anche dieci metri dietro. Questa ha due false partenze, la recupera più. Ma la storia della Robinson, che sarebbe la medaglia d'oro qua, però secondo me è battuta da un'altra storia che è più coinvolgente ancora, merita uno sviluppo. La Robinson, rientrata dalle Olimpiadi, ha un incidente aereo. Coma viene ritenuta morta. La consegnano al Becchino. Il Becchino, per motivi che non sono mai stati chiariti, dice guardate che questa, secondo me, non è morta. E in qualche modo riesce a provarlo dicendo questa respira. Il cuore sembra fermo, ma il respiro c'è, non è morta nulla sotterro. La signorina Robinson si sta in coma per altri sette mesi. Si risveglia dal coma e si riprende e comincia a tornare a correre e a gareggiare. Fantastico. Salta le Olimpiadi del 32 a casa sua, ma vincerà la staffetta nel 36 a Berlino contro le tedesche, che sbagliano l'ultimo cambio. Cade il testimone. Sì, sì, ma lei ha vinto un altro oro a due Olimpiadi di distanza, dopo essere stata già considerata morta probabilmente almeno due volte.